ciao a tutti bella gente come va sono qui per sostenere la cruciata italiana perché dopo tutto quello che è accaduto nonostante abbiamo superato un momento diciamo quello più cruciale ma non dobbiamo abbassare la guardia quindi per maggiori informazioni per saperne di più vi consiglio e vi invito ad andare sul loro sito che www.cri.it detto questo volevo accettare un pezzo di una canzone che mi piace molto la canzone in questione è romeo ermeio del colosseo ci provo ci provo aspetta mi devo intonare un attimo la chitarra sta accordata si abbastanza si bene vado per arrivare qui da roma ho fatto l'autostop e in francia un jumper pezzo che ce sto ma pure da migrato mica so caviato io sono romeo per meglio del colosseo io fermo non ce sto proprio non ne va se domani qui sarò oggi chi lo sa forse un poco ma chitterò e me ne andrò in città e poi laggiù qualche scena farò ogni gatto che me vedrà ma che permiscione che simpaticone quello è romeo ermeio del colosseo anvedio che brucia terribile però sosteniamo mi raccomando sempre grazie 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 a tutti.